Pensa a Dynamo e ti dimentichi la parola difficile. Mi è piaciuta l'arrampicata. Si sale sempre più in alto. Vorrei tornare a Dynamo perché posso sentirmi libera e vedere la mia malattia da un altro punto di vista. Dynamo Camp ospita gratuitamente ogni anno più di 1800 bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche. Per un bambino malato, a Dynamo Camp niente è impossibile. Grazie per la visione!